Benvenuti a Wild Love, il programma che sfrutta la carica dell'adrenalina per farvi innamorare più follemente che mai, più intensamente. Dieci single pazzeschi stanno per spingere al limite i loro sentimenti. Fermi un attimo, so cosa state pensando, ma quello che vedo sulla pista è il leggendario Mario Lopez? Dagli appennini alle ande, compresa mia nonna, conoscono Too Hot to Handle, Lana e le sue regole. Dovrete astenervi dalle pratiche sessuali. Dunque, per attirare un altro gruppo di bellozzi ingenui, abbiamo dovuto mettere in scena il programma più fasullo che si sia mai visto. Siete pronti? Grazie a tutti.